Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ora, voglio fare questo video per cercare di capire insieme a voi perché i carboidrati sono così importanti nella nostra alimentazione. Ho fatto diversi video sulla CG ratio, quindi il rapporto carboidrati-grassi, ho fatto video su come impostare generalmente i macros, ho fatto video su carboidrati versus grassi, cioè dove puntare di più in una fase di recomp e o definizione. Ora, in questo video voglio andare un po' più sul generale. Perché io punto così tanto sui carboidrati? Perché mi vengono fatte molte domande sul... Ha senso fare un bulk ad alti grassi? Ha senso spingere sui grassi? Ha senso puntare sui grassi? Molti protocolli puntano sui grassi, molti preparatori puntano sui grassi, eccetera, eccetera. E io ho sempre risposto no, non ha assolutamente senso. Ma perché questo? Allora, cerchiamo di prenderla anche un po' alla lontana se vogliamo. Mettiamola così, facciamo uno stream of consciousness delle idee che mi vengono in mente perché sono in preparazione, non ho la razionalità di mettermi a schematizzare un po' troppo le cose. Sono veramente, veramente cotto. Quindi prendetela così com'è, ok? Mettiamola così. Perché i carboidrati sono così maledettamente importanti? Allora, partiamo da un assunto. E questo assunto è cos'è che noi utilizziamo come esseri umani per produrre energia? Qual è la molecola? Questa molecola è l'ATP. Noi produciamo energia grazie all'ATP. L'ATP ci permette di esprimere energia. Ora, il modo più facile in assoluto per creare ATP, per produrre ATP, sono i carboidrati. È il macronutriente energetico che il nostro corpo utilizza al meglio per produrre ATP. Può utilizzarlo sia in via anaerobica, quindi in assenza di ossigeno, sia in via aerobica. E questa è la differenza principale con i grassi che possono essere utilizzati soltanto in aerobiosi. Quindi in presenza di ossigeno. Ora, da questo punto di vista, per il genere umano, indipendentemente dallo sport, indipendentemente da quel che fa, ci sarà sempre una priorità nei confronti dei carboidrati. Ok? Ci orienteremo sempre, il corpo preferirà sempre utilizzare i carboidrati. Perché sono una via metabolica, una via di produzione di energia, semplicemente più efficiente. Ora, sappiamo che in base al quotiente respiratorio, all'attività che facciamo, il corpo shifterà, logicamente dall'utilizzo di carboidrati all'utilizzo di grassi. Sappiamo che quando mangiamo carboidrati c'è un picco insulinico. Anche se siamo a riposo, il corpo tenderà ad utilizzare i carboidrati, perché di nuovo li preferirà, perché deve mantenere una certa glicemia. Quindi tenderà ad utilizzare più verosimilmente i carboidrati e andrà a accumulare grassi come riserva energetica. Però non ci addentriamo in questi meandri della biologia e della biochimica. Cerchiamo piuttosto di capire un discorso, una metafora. Ora dunque, mettiamola così. Paragoniamoci, a me piacciono molto le metafore con le automobili, con le macchine in generale. Non ci capisco un cavolo di macchine e di motori, però trovo che le metafore, anche se noi non siamo macchine, ci sono delle abissali differenze, le metafore funzionano abbastanza bene. Di nuovo, perché preferire i carboidrati? Per un bodybuilder in questo caso specifico, quindi ragionando sul bodybuilder. Immaginate questo. Immaginatevi una 500. Per la 500 serviranno determinati substrati. Servirà un olio per motori, serviranno altri prodotti, quindi magari l'acqua, eccetera. E questo, la quantità di olio che serve per lubrificare tutto quanto, la quantità di acqua che serve come inserbatoio, diverse quantità di elementi dipenderanno essenzialmente dal peso. Quindi in quel caso di una 500 non è una macchina troppo grande, non è una macchina troppo pesante, quindi ne serviranno relativamente pochi. In più, questa 500 logicamente per funzionare ha bisogno di benzina, che è il substrato energetico, nel nostro caso sono i carboidrati. E di benzina ne avrà bisogno innanzitutto per riempire il serbatoio, che nel caso di una 500 non è un gigantesco serbatoio. Sbagliatemi, correggetemi qua sotto nei commenti se sbaglio qualcosa, però non è un gigantesco serbatoio. Quindi servirà una certa mole di carboidrati di benzina. L'olio per motore e, non so, l'acqua può essere qualcos'altro, non so se i serbatoi d'acqua, gli storage d'acqua cambiano, comunque sarebbero proteine grassi. Questi dipendono essenzialmente dalla massa del nostro oggetto, così come in parte anche il serbatoio. Se noi paragoniamo che questa 500 ha un TIR gigantesco, logicamente il TIR avrà bisogno di più olio per rubrificare tutto l'apparato. Mettiamo invece un SUV, che fa un po' più figo un SUV. Dicevo, il SUV ha bisogno di più olio, di più acqua in generale, e ha bisogno di più benzina di base, perché avrà un serbatoio più grande. Quindi, questo per dire cosa? Che tra un atleta che pesa 60 kg e un atleta che pesa 90 kg, c'è già una differenza di base sia di proteine necessarie, sia di grassi necessari, che di carboidrati necessari. Ora, partendo per importanza per quanto riguarda i grassi, è veramente minima la quota di grassi che è necessaria per sopravvivere. È indispensabile, perché è fondamentale, non potremmo sopravvivere senza grassi, a zero grassi. A un certo punto moriremmo, per assenza di acidi di grassi essenziali. Però è minima. È minima nel senso che un essere umano può sopravvivere tanto tempo mangiando soltanto 10 g di grassi al giorno. Però diciamo che, idealmente, la soglia che è stata vista minima, anche per ottimizzare l'assorbimento delle vitamine liposolubili, è quella di 35 g al giorno. Ok? Questo è il minimo indispensabile. Poi i grassi hanno un ruolo, logicamente. Poi su questo arriveremo più amanti. Parliamo generalmente della Cigirazio. Vengono utilizzati, in certi casi, da un punto di vista energetico. Quindi possiamo stare sicuramente più alti. Però la soglia è indispensabile e minima. Un aumento di grassi non ha assolutamente nessun impatto cronico e tanto meno acuto su variazioni ormonali. Quindi la cosa che si dice, i grassi aumentano il testosterone? No. Servono i grassi per produrre testosterone, perché sono delle molecole steroidee. Però, di base, serve questo quantitativo minima. Di nuovo è indispensabile, ma è molto, molto basso. Per quanto riguarda le proteine, l'abbiamo già detto, ho fatto diversi video in merito. Io sono per circa l'inserimento di un grammo per chilo di peso corporeo di proteine nobili, che in questo caso vuol dire un grammo e mezzo, due grammi, con l'aggiunta di aminoacidi essenziali. Per ottimizzare la sintesi proteica, senza considerare gli aminoacidi essenziali che possiamo aggiungere, per ottimizzare tutto il discorso, parliamo di due, due e mezzo, fino anche a tre grammi per chilo di peso corporeo di proteine totali nella nostra alimentazione. Ok? Quindi questo, logicamente, si basa su quella che è la nostra massa. Per quanto riguarda i grassi, possiamo dire di stare più o meno su un 0,5-0,7 come soglia base per chilo di peso corporeo. Quindi capite che grassi e proteine si basano sulla nostra massa. I carboidrati anche si basano sulla nostra massa, perché logicamente più saremo muscolari, più avremo bisogno di carboidrati, più potremo accoglierli. Ok? I serbatoi, i ventri muscolari, potranno accogliere più carboidrati. Ok? Quindi i nostri carboidrati che abbiamo bisogno aumenteranno. E non aumenteranno, in questo caso, andando a colmare il gap del nostro fabbisogno calorico. Quindi può essere un 300 grammi di carboidrati per un atleta più leggero, un 4-500 come base per un atleta più grosso. Il nostro SUV. Ciò detto, si inserisce un altro elemento nel nostro esempio. Ossia un delta di cui ho bisogno di energia nel momento in cui la mia 500 e il mio SUV li metto in moto. Ora, se io una 500 la porto in strada, consumerà un tot di benzina. Se io lo porto su strada extraurbana, in autostrada, e inizio a fare accelero-freno-accelero-freno per evitare gli autovelox, eccetera, consumerà tanta benzina. Se il trucco del motore la porto a tantissimo di velocità, consumerà un infinito di benzina. Ok? Veramente, veramente tanta. Quindi sostanzialmente il nostro atleta dei 60 kg, nel momento in cui inizia a camminare, avrà un maggior dispegno energetico. Nel momento in cui ha delle attività da compiere, avrà un certo bisogno energetico. Nel momento in cui si allena in palestra, avrà un ulteriore bisogno energetico. E nel momento in cui la performance in palestra migliora gradualmente, avrà bisogno di un quantitativo energetico ancora più alto. Che è un quantitativo che, come nel nostro caso per la 500, viene colmato dalla benzina, così per il nostro atleta deve essere colmato dai carboidrati. Ossia, quando io il mio atleta lo metto in una fase di bulk, in cui ho una performance che vado ad aggiungere, e questa aggiunta di performance dovrebbe essere colmata dai carboidrati, man mano che questa performance aumenta, io devo dare più carboidrati. Perché quella è la mia benzina di cui ho bisogno. Quindi, il discorso è che in una fase di bulk, in cui l'alimentazione è funzionale all'allenamento, io se devo sostenere la mia performance in allenamento, devo dare carboidrati. Non ha assolutamente senso dare grassi. Perché non sono quelli la mia benzina. Il mio atleta, bene o male, peserà sempre lo stesso. Avrà un piccolo delta di peso. Però questo non mi comporta che il serbatoio d'olio, il serbatoio d'acqua aumentano le dimensioni. Sempre quello sono. Sempre di quello ha bisogno. Ci sono delle eccezioni, ma ce li vediamo tra un attimo. Ora, prendiamo invece il nostro tir. Il tir, se lo mando per strada, consumerà più benzina. E ne consumerà molta di più rispetto a un 500. Se lo mando in autostrada, consumerà più benzina. E ne consumerà molta, molta di più rispetto alle mie 500. Questo per dire cosa? Che il mio atleta di 90 kg non solo avrà bisogno di un aumento di carboidrati nel momento in cui si mette a muoversi, perché qualsiasi attività che fa avrà una richiesta energetica. Quindi andrò a dare un surplus glucidico, ma quando si mette a eseguire una certa performance e quando la performance aumenta devo comunque continuare a dare carboidrati. Ma queste masse che ho in più rendono questo aumento di carboidrati esponenziale rispetto ad un atleta più basso. Ossia, il miglioramento di performance che ho nel corso di una fase bulk di un atleta di 90 kg, quindi con un'ottima performance, mi comporta un dispegno energetico perché c'è più massa muscolare che si contrae, che lavora, molto più in aumento, quindi che aumenta di più nel corso di una fase di bulk rispetto all'atleta più leggero. Questo esempio per dire che cosa sostanzialmente che quando paragoniamo due atleti l'atleta più pesante avrà un bisogno di carboidrati che non solo di partenza è molto più alto ma aumenterà molto di più durante tutta una fase di bulk perché tutto l'aumento del sistema è proporzionalmente più grande. Mentre l'atleta che pesa 60 kg, magari l'atleta più leggero, eccetera, avrà bisogno del surplus ma l'aumento sarà un po' più piccolo perché è proporzionale, scusate, tra i due. E quindi proporzionando al peso questo è. Ora dunque, i carboidrati quindi sono l'elemento fondamentale. Il quantitativo varia, ho già fatto diversi video in merito, bisogna gestirli e saperli gestire bene, ho fatto diversi video in merito. Arriviamo ad un altro nocciolo della questione. Quando è che ha senso aumentare i grassi? Beh, ha senso nel caso in cui voglio cercare di moderare quella che è la flessibilità metabolica, ossia il nostro corpo deve essere comunque sempre in grado di passare dai grassi ai carboidrati. Quindi utilizzare i grassi a scopo energetico quando è il momento di utilizzarli e i carboidrati quando è il momento di utilizzarli. Se ho una glicemia sempre alta, sempre elevata, il nostro corpo avrà difficoltà in questo caso. E glicemie sempre elevate avvengono quando si hanno troppi carboidrati con troppi pochi grassi con un input calorico proporzionato. Quindi considerando un input calorico giusto, se ho comunque troppi carboidrati a scapito dei grassi la glicemia sarà sempre tendenzialmente elevata. Se invece esagero con i carboidrati tenendo i grassi anche fissi, allora avrò esagerato dal punto di vista di input calorico e tutti questi due scenari non ho reso l'alimentazione funzionale all'allenamento. Quindi in questi scenari comunque il corpo iniziarà da fare difficoltà. Quindi il mio consiglio è riferito sempre a quel concetto di cigirazzo. Il rapporto tra carboidrati e grassi, cioè prendo i miei carboidrati totali dell'alimentazione, li divido per i grassi totali dell'alimentazione e il risultato che ottengo dovrebbe essere sempre compreso tra 5 e 10 orientativamente più logicamente preponderante verso il 10. Cioè mi devo avvicinare un po' di più al 10 nelle fasi di pulch. Quindi un po' più a favore dei carboidrati. Potenziamo di mangiare 5000 grammi di carboidrati alla settimana e 500 grammi di grassi alla settimana. Il rapporto 5000 diviso 500 è 10 quindi avrò una cigirazzo fondamentale. In questo scenario non mi conviene aumentare i carboidrati ma mi conviene continuare ad aumentare i carboidrati e i grassi in maniera proporzionale perché hanno un ottimo equilibrio. Però di questo ho già parlato e vi invito a vedere i video sulla cigirazzo in cui spiego bene l'argomento. Ragazzi questo è tutto. Ovviamente alla base di questo io consiglio sempre per chi non fa agonismo di non andare a fissarsi troppo sui macros di cercare di utilizzarli come fase iniziale per fare dei ragionamenti per capire un attimo e prendere dimestichezza con le quantità della propria alimentazione ma andare a ragionare poi soprattutto sul proprio schema alimentare piuttosto che calcolare tutto quanto in maniera spasmodica con i macros. Quindi devono essere un punto di partenza ma poi dovremo muoverci più verosimilmente e come facciamo a muoverci? Semplicemente nel momento in cui dobbiamo aumentare le calorie aumentate da fonti glucidiche. Quindi ogni tanto dall'avena che ha anche una buona quantità di grassi e di proteine ma nella maggior parte dei casi da fonti come le patate il riso il couscous quindi fonti molto più prettamente glucidiche. Questo è tutto qualsiasi domanda qua sotto sarò ben lieto di rispondere come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.